Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Giorret e oggi parliamo del grande fratello VIP6, Baru rifiutta Jessica, vediamo. Ormai è ufficiale, Baru non ha nessuna intenzione di creare una storia d'amore con nessuno, tantomeno come molti credono e sperano, soprattutto nella casa, con Jessica. A confermare la cosa è stato proprio lui durante un'intervista fatta dagli stessi inquilini, in cui c'è di mezzo anche Jessica. Trovo Jessica una bella ragazza, simpatica, ma non sono qui per avere una storia sentimentale con nessuno, nessuno mi piace, non mi sembra il posto giusto per iniziare una relazione, non voglio andare in televisione baciandomi e strusciandomi nelle coperte e quindi non mi avrete mai. Queste sono state alcune affermazioni fatte dal concorrente. Cosa volete sapere ragazzi? Che vi devo dire? Ma mi devo per forza dichiarare con una di voi? Ma io lo so, ma che è? No, non mi va, con nessuna di voi vi cagherei fuori da qui, siete contenti? Basta, me ne vado, scusami, permesso. Jessica sembra non averla appresa tanto bene, anche se ha un po' ironizzato su alcune risposte date. E voi? Credete che fra Baru e Jessica possa nascere un amore? Scrivete nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso il video, se vi vai iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Jared. Ciao.